E' già in via di realizzazione un progetto di sviluppo turistico integrato del territorio dell'Alto Medio Sagno che abbraccia 33 comuni che gravitano intorno ai centri di Agnone, Frosolone e Trivento. E' stato promosso dalla SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sagno, con l'obiettivo di riorganizzare il turismo in Alto Molise e renderlo così particolarmente appetibile per i visitatori. A presentarlo ai 33 sindaci del territorio, al comune di Agnone, ente capofila della SNAI, Gian Lorenzo Molino, esperto di progetti di sviluppo locale, nello specifico in ambito turistico, il quale ha evidenziato criticità da salare e potenzialità su cui puntare per realizzare strumenti di rete capaci di comunicare le principali bellezze e possibilità di svago offerte dall'area interna attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dei gestori di beni culturali e naturalistici e degli operatori privati del territorio. In sintonia con tali presupposti sarà realizzata una guida in doppia lingua che racconti in modo coinvolgente il territorio e le esperienze che si possono vivere durante una vacanza in Alto e Medio Sagno. A tale guida sarà legata una carta sconti gratuita e personale per ogni turista che sarà distribuita nei principali punti di interesse presso le strutture ricettive e gli operatori turistici, con la quale ottenere biglietti d'ingresso a costo ridotto per musei, monumenti e attrazioni, sconti dei ristoranti dai rivenditori di prodotti tipici e riduzioni sui servizi turistici. Fondamentale anche monitorare le persone che arrivano sul territorio, capire da dove vengono, come si muovono, cosa fanno, in modo da costruire offerte turistiche ed itinerari sempre più in linea con le tipologie di visitatori che vogliono soggiornare in Molise. Il primo anno sarà di sperimentazione. L'obiettivo è di realizzare la prima rete di operatori turistici del Molise.